Per Luigi Bresciani un buon inizio, una buona partita, insomma avete dimostrato stasera di essere una delle migliori squadre di questo campionato? Ma se siamo una delle migliori squadre del campionato non lo so, noi lavoriamo per migliorarci ogni giorno per questo e cerchiamo uno subiettivo di arrivare più in alto possibile. Il campionato è difficilissimo, stasera sapevamo che trovavamo un palazzetto bello, bellissimo, sono contento che una piazza di via Reggio sia tornata in Serie A perché è stato bello giocare, ambiente bellissimo e tutto. È stata una partita, siamo usciti a sbloccarla, comunque l'abbiamo gestita bene, non posso negarlo che sono stati veramente bravi ragazzi. Sì perché comunque come dicevi, giustamente un grande pubblico sia dalla parte del centro che dalla parte di chi è arrivato da Lodi, il centro poi comunque all'inizio vi ha messo un po' in difficoltà ma poi avete dimostrato di essere molto squadra, è quello che fa piacere del tuo lavoro. Non si può vincere con i singoli, le partite si vincono di squadra, se siamo una squadra tutta unita si può toglierci qualsiasi soddisfazione, se cerchiamo le soddisfazioni personali è impossibile. La squadra comunque cresce, lavorano e posso garantire che sono dei ragazzi che si fanno un mazzo e si vede comunque quando vanno in pista che non sanno tutti cosa fare. Poi comunque abbiamo anche approfittato tra virgolette che la differenza di categoria al via Reggio si è vista a un certo punto. Si devono anche ragazzi nel via Reggio si non può abituare a questo ritmo. Io penso che tra un mese magari sarà un altro via Reggio, devono essere forti con la testa però, perché il ritmo della Serie A non è la Serie A due, perciò noi abbiamo approfittato anche di quella a un certo punto. Una grande squadra però questa ciliegina sulla torta di Francesco Compagno che è tornato è importante, no? Finalmente, dopo il quinto campionato di faccia all'Odio ogni anno perdevo giocatori. Quest'anno siamo riusciti con sacrifici enormi alla società a prendere Checco e ci dà alcuna qualità e poi è un giovane che nel progetto nostro sta benissimo, perciò insomma è la cosa che a me piace la mia squadra che io ho dieci giocatori, perché penso anche di avere un secondo portiere che quando entra sa il suo ruolo e lo fa benissimo. Perciò io ho dieci giocatori e penso che nel locker moderno si ha un vantaggio. Allora, in bocca al lupo per tutto perché insomma, lo sai, siamo tutti e due, siamo tutti versinesi, quindi insomma ti vogliamo bene e sappiamo che insomma hai fatto tantissimo per questo sport e continui a farlo. Sì, è la mia passione, i miei genitori sono nati, mio papà andava a Viareggio e tanti sono cresciuto. Insomma, tornare anche a Viareggio in Versilio a me piace sempre, perciò ho fatto piacere. E come si dice, viva il lupo o crepe il lupo? Viva, non facciamolo crepare, viva il lupo e insomma andiamo avanti. Grazie mister. Grazie a voi, bocca al buo per tutto.